E' stato aperto un bellissimo secondo tempo, ha avuto una grande reazione e poi ha cercato anche di vincere, ha fatto la terza partita e ci ha aperto Andrea Palastro Andrea. Si è approvato a vincere la partita con la pittura, con la soledà, con la scuola, con la scuola, con la scuola. Io credo che il calcio è fatto da episodi, purtroppo lo sanno davanti bene, poi ci sono le decisioni a avventare un po' che ci è arrivato un po', siamo arrivati un po' perplessi però... Su questo non abbiamo spinto tantissimo e basta. E inganzo a Peppe Bergogli per essere stato qui al mio fianco, utilissimo come al solito. Grazie a tutti!